ok buona serata oggi bellissimo mio topolino oggi è il 30 dicembre 2023 abbiamo dei bellissimi amichetti che fra poco faremo brillare lì abbiamo il primo artificiere sembra un carabinieri aspetta che facciamo passare prima questo cane perché giustamente il rispetto per i nostri amichetti a quattro zampi non deve mai mancare quindi noi ci dobbiamo divertire dall'urto del petardo ma i nostri animaletti non devono soffrire quindi troviamo sempre giusto equilibrio questo ci tenga precisato perché oggi se ho comprato la casa e domani chi sei già venuto ora cominciamo a fare cominciamo a fare diamo uno a lui e questo è il piccolino te lo diamo a te no no poccolino il questo è per il boss il bosco cobra cobra e io faccio questa e io faccio questa e tu hai sì sì però tu devi rimanere qui a farla e lui gli diamo il lupo no io non accendo più no 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 iddo iddo no 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 iddo iddo no 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 iddo iddo no 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 iddo iddo tu faccio iddo non voglio la tua vita non lo posso domandare per ora non lo posso domandare per ora e vabbè liberati chiamarla a scureggio scendiamo vabbè intanto muoviti muoviti io ve l'ho accendito chiamarla? no 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 prima prima andiamo da falco qua dì stai forte stai. eh no? chiamarla a due lato chiamarla che passano i macroni butta la propria butta l'incontoleta no vedete andiamo da falco la tua mezza strada, bravo, lascia la strada, si, non sparo tu dici non sparo, finisci non ti avvicinare, ma sparare, ma domaste almeno amici attenzione, questa è un'altra cosa che non si deve fare però amici non domaste, domaste amici però guardate da lontano, aspetta qua, prima di accettarsi, prima di accettarsi la camicia si è accesa aspetta prima di assicurare che doma non doma va bene, dopo cosi va doma, avanza, doma massoniano questo va abbiamo capito oh, così è doma ma non doma ecco buono, è ora tu che doma ah no aspetta no, ma doma l'entera ah, non so che se doma tu chi sa che te lo fa dare guardate guardate se non fai la miccia non fai ma se non fai come la mia Giovanna, non doma l'entera dai no, no, ma che piglia così prima di assicurare che tu avanti questo è un bellissimo lupo P1 e ora abbiamo il nostro caro boss il nostro boss che non poteva sparare questo il nostro boss doveva sparare questa avanza, ce lo dedichiamo più grosso ora lo vedremo il nostro boss e poi entriamo subito dentro tocca la mia benissimo complimenti tocca la mia grazie 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 grazie